Ok, ci siamo, buongiorno e facciamo così in approfitto per estremarmi le ultime cosette ok tu resta lì mettiamo qua la chat e questo qui magari lo sposto qua sotto perfetto ok, chat e proseguiamo come dicevo nella scorsa live ho letto solo cosa devo fare come prossima cosa per andare avanti non so niente, non so cosa serve non so cosa ci farò questa è la storia di due giovani ragazzi legati nell'amicizia e nel destino Dio ti prego perché? grazie si no, lasciamo perdere sono troppo abituato ad avere un pulsante continua come primo comando scappo in bagno non trovo abituato ad avere un pulsante continua non sono ancora abituato a dover fare carica partita sì, 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 va bene perché non si può saltare tutto questo? please è come l'introduzione di kingdom hearts 3 non faccio spoiler ma minchia l'intro quanto dura alla fa sono una cazzo in dopo l'altra per carità è bello che sia una cazzo in dopo l'altra in realtà nel senso che proseguiamo le cazzo in sono comunque trama eventi eccetera è bello vederli però durano cioè è come tanti se stiamo mandando metà in solid 4 70% 80% vabbè 80% cazzi in esagerazione ma vabbè ti chiedo solo era 60-70% cazzi quando è che gioco è solo dell'un sì, mi fai fare qualcosa grazie carica madonna mia sì oddio veramente esatto eravamo qui e so che devo andare a fare una cosa che io non avrei mai mi dicevo prendi ah già non l'avrei mai provato in realtà fra tutte le cose stupide che non ho provato questa non l'ho fatta e perché non l'ho fatta? non l'ho fatta perché giustamente provo le cose più stupide e insensate e anche quelle sensate e pure quelle che sembrerebbero sensate non le fa tu vorresti dirmi che questo lo prende? beh uno dei pochi vantaggi della mia forma scheletrica è che sono immune all'elettricità se gli avessi fatto mettere le mani in una presa di corrente mi avrebbe detto no sei scemo va bene un cavo di rare ma non è che per caso non ti seguo no eh non saprei come fallo tu eh per dire potrebbe legarglielo in tour stavo pensando che no non è che per caso fermati un oh ho pensato elettronica con elettronica tra virgolette elettronica elettrica cos'è ah ma niente ah ah si però in tutto questo io dove dov'è qua grazie buongiorno a chi si è collegato in realtà io però sto facendo tanta strada per niente andiamo qua eh si ora penso di sapere a cosa serve il magnete mentre là c'è la turbina di donnie dark vabbè no credo di sapere a cosa serve non potevo pescare vuoi vedere che adesso riesco a pescare visto che è un magnete tipo se uso sulla canna da pesca si prospetta una pesca molto proficua finalmente si eh madonna non posso credere che tu ce l'abbia fatta sono un vero pro che vuoi farci perché non dai un'occhiata alle tasche ma come diavolo hai fatto quando passi la vita a sfuggire ai finanzieri non puoi sopravvivere senza certi trucchetti e come sei finito a gestire una giostra servizi socialmente utili ah in ogni caso con quel buono puoi ritirare un premio a scelta al chiosco della zingara poco fuori città ah quasi dimenticavo stai attento ad andare in giro con quell'altra bustina che ti ho passato oddio quale altra bustina stavo scherzando non sei affatto divertente ma oh gra wow grazie era ora io ho mille robe nell'inventario che ancora a quanto pare non servono a niente nel frattempo lo scienziato gli è arrivato il pacco quindi quel cavolo che dovevo telefonare vabbè ma c'è tizio esatto vecchia conoscenza ma come sono dei mappets tra l'altro credo non vorrei dire minchiate però capisco che sono Julius e Vincent si tratta sempre di Slenderman credo non so niente di Slenderman ma ne vedo parecchi in giro quindi mi hanno detto è Slenderman e quindi credo che Fisarmonica non è che la posso magari prendere sta bene lì dov'è ok non è che la posso ormai dovresti aver capito che non ho un gran feeling con gli strumenti ok aspetta un attimo questo? what? perché mi segna qualcosa qua sopra? non è che no eh risarmonica tizi e poi c'è la roba di là va bene parliamogli un po' non si sa mai cos'è? arte postmoderna? eh c'hai ragione non riesco davvero a farmi venire i denti interessanti del tipo? beh ciò lo saprei qualcosa che trasmetta emozioni forti qualcosa di impatto ma che sia originale una volta tanto mi son rotto descrive guardie infami sui monumenti capisci? ci penserò magari mi verrà in mente qualcosa bella se vuoi te porto un paninazzo che ha mortazza dalla mitica porta no che ha mitica mortazza dalla porta sud sono citazioni importanti queste qualcosa che gli dia ispirazione non è che può essere che debba mi sto flashando cose faccio foto con la polaroid le faccio vedere è ispirato a disegnare anche perché non credo ognuno di noi ha un e questo non funzionerà esatto scusami se ti disturbo ma hai un'aria familiare potrebbe darsi che tu mi abbia vista a qualche fiera in passato sai un tempo ero un gamer professionista da come te la passi adesso parrebbe che qualcosa sia andato storto tunnel carpale ho perso lentamente mobilità e reattività mi ha tagliato fuori dal circuito dei pro mi immaginavo più una freccia nel polso o qualcosa del genere freccia nel polso? mai giocato a skyrim? spiacente solo picchiaduro allora hai subito la giusta punizione ok no non è chi penso io pensavo una certa persona ma no dubito che farebbe no esatto gli ho visto questa cosa qua e mi è venuto in mente il papillon con lo spuzza acqua ah lui non può è chiaro e tu? gli posso parlare? l'ho tormentato abbastanza lo lascerò riposare sei sicuro di questo? cioè l'hanno messo così a caso? o forse mi servirà meglio non buttare benzina esatto questo? cattola di Eggo cos'è? fossi in te lascerei perdere la ragazzina diventa un tipetto parecchio pericoloso quando si incavola la ragazzina chi? credo che quelli della Eggo non finiranno mai di ringraziare abbastanza i fratelli Duffer chissà tutti gli introiti generati grazie a Stranger Things ah capisco non ho mai visto Stranger Things quindi ok ti concedo l'alibi della malnutrizione e della pelata ma non sono io quello con poteri paranormali e una strana ossessione per i waffle capisco i maiali non oso immaginare cosa ci sia dentro quel pastone non è che potrebbe anche funzionare se non fosse una stupidaggine ma per te sono tutte stupidaggini anche quelle però quelle che sono davvero stupidaggini le fai non è che potrei negativo incapperai inevitabilmente e ci tengo alle mie ma tu trovo lo stesso non saprei come non si sa mai fermati un secondo sono buona la pappa eh maialini crescete et multiplicorum come vuole che tempo fa come a FK vabbè non è esattamente keyboard ma cos'è una di paglia non credo di poter o si in questo videogame i modi di dire vengono presi un po' troppo alla lettera ah spillo però attenzione ha uno spillo non funzionerà ok però dai serve per questo usare tutto perché io non credo che c'è qualcosa infatti no sono accorto ah ognuno di no ok niente scherzavo ho già dato qualche ora fa per oggi basta voli dell'angelo ma come eh ma ma dovrebbe esserci una tizia tipo mi hanno detto dai ah ma non c'è la tizia adesso devo farla venire fuori appunto a FK quando ci sarà potrò passare col biglietto quindi però mi perprime questa cosa qui che c'è segnato lo sopra eh non 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 capisco come usare tutto con fallo tu piuttosto niente ehm vediamo un po' c'è una fisarmonica ah aspettate un attimo si chiama ok io mi confondo sempre fisarmonica armonica non riesco mai a ricordarmi di ricordarmi fisarmonica è il nome più lungo quindi anche lo strumento più lungo è più grande devo ricordarmi quello perché sennò non non è che si butta il plutonio nel fuoco ah non posso è vero che scema quindi nada di qua non posso uscire eh no volevo dire sì mappa però attenzione sembra che quel pezzo sia arrivato finalmente esatto dica funziona tutto adesso il corriere si è fatto desiderare non poco ma il carburatore era perfetto mi offro assolutamente come cavia per testarla allora davvero hai idea dei possibili effetti collaterali beh ho pensato paradossi temporali impossibilità di ritorno rischio di incesto con la propria madre è impossibile annichilazione mutazioni cromosomiche potrei continuare diciamo che non ho nulla da perdere per me va bene allora c'è solo un piccolo problema ho finito il plutonio ce l'ho io e ci vorranno un paio di giorni prima che il mio ricettatore di fiducia riesca a procurarsene dell'altro dovrai aspettare eh appunto dicevo io era geniale la macchina del tempo il plutonio ripasso più tardi ehm cos'è che volevo dire sì no esatto diciamo che non ho niente da perdere beh potrebbe andare peggio come peggio di morto eh potersi tornare in vita per caso questa può interessarti dove l'hai trovata eh lascia fare la drogheria sotto casa versene esattamente tre millilitri per ogni dozzina di anni a ritroso aggiungi anche altri due millilitri per avviare la macchina e un millilitro ogni mezz'ora di tempo reale di utilizzo sì il più preciso possibile ok nessun problema la macchina si avvierà non appena avrai inserito la data di destinazione nell'apposito quadrante evita i viaggi nel futuro il processo sfrutta in parte il campo geomagnetico terrestre ed eventuali alterazioni potrebbero impedirti di tornare indietro chiaro ricordati che non puoi saltare da un'epoca all'altra ogni volta sei obbligato a tornare al presente ne hai ancora premuto le porte sono automatiche quindi resta nei dintorni qualche animale potrebbe entrarci per sbaglio e tornare al posto tuo o fondarsi con la musca ricordati di stare attento a non interferire mai a notte se è tutto quello che ti pare esatto bravo quanto plutonio ha detto che dovevo versare di preciso 3,2,1 ma abbonderò cosa vuoi caccata come abbonderò no io pensavo ah vabbè non è una funzione di gameplay che davvero devo scarci dietro e dosare immagino l'ha fatto da solo cioè specificare la data ma lo devo fare invece ah così ci stiamo ci stiamo alla faccia ma come l'uovo di l'uovo di togepi ma perché tra l'altro ho notato solo recentemente che l'uovo di togepi ha tipo i triangolini che hanno Latios e Latias davvero Latios e Latias però mi viene il dubbio no Latios e Latias è vero Latias ha il triangolino azzurro e Latios ha il triangolino rosso che sono uguali tuttavia vabbè come Jumanji di certo la vita all'interno dell'armadio non è facile ma in ogni caso la preferisco a quella della giungla eh già perché ho l'impressione sarei quasi tentato da lasciarti il primo lancio di dadi posso parlare stai ancora sperando in un 5 o un 8 eh Robin nostro caro Robin Jumanji un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar già va bene prenderlo fresco ma così è un tantino esagerato perché residui plutonoli plutonio liquido è tipo non sono mai stato un grande amante della pesca potrei giustificare un'azione del gioco no no mi sembra di vedere qualcosa che luccica nella rete perché gli faccio osserva e ci salta dentro se faccio fai qualcosa invece non fa niente mi sta bene la prossima volta sarà il caso che mi faccia gli affari miei ho perso qualcosa non credo no infatti non ho perso roba perché come ah manè giustamente beh buon dio chi va là di grazia il mio nome è manny manny calavera sì insomma sono l'oscuro mietitore non era mia intenzione spaventarla signor manè la sua fama la precede beh lei mi lusinga ora basta con i convenevoli non sono qui per questo immagino che sia giunta la mia ora corretto ma non del tutto esatto potrei darle una seconda possibilità qualsiasi cosa ma mi risparmi la vita la prego mi aggiunga nel suo quadro allora in mare possibilmente in grande e ben visibile ma è una richiesta insensata sarebbe tutto fuori proporzione senza contare che rovinerebbe totalmente il pathos della scena devo forse prenderlo per un no mi perdoni triste mietitore sarà accontentato io non me ne ah irruzione nell'arte è un achievement io non me ne intendo ok immagino però ci sia un quadro del genere immagino come procedono i lavori col suo ritratto totalmente rovinato come dice scusi nulla nulla vabbè non mi sbaglio sempre la non ci posso eh no non ho la mappa attenzione però no attenzione un paio di ciufoli quello che va bene prenderlo fresco no non sono mai stato ho imparato alla lezione sta cosa mi perprime un po' purtroppo non ero un gran che in storia dell'arte sta dipingendo due navi in mare aperto forse forse durante uno scontro ok diciamo che viaggiare nel tempo servirà probabilmente per trovare qualcosa o per fare qualcosa con un oggetto che non ho però teoricamente posso andare anche nel futuro scusate eh infatti non ho motivo per visitare per un attimo ho pensato a Fry aspetta non è che se vado nel 2999 magari per favore ricordami come è stavolta a Bildono devi inserire la data di non può dopo un viaggio sei obbligato a tornare al presente prima del successivo non puoi allontanarti e soprattutto non interferire ripasso più ma se io faccio una cosa tipo questa non ho motivo in che anno è tra l'altro non lo ricordo ma no non ho motivo no mi pare mi pare fosse l'88 l'anno di Donnie Darko no per dire tu credi i viaggi nel tempo attenzione però può essere che parlando adesso con Frank mi dica qualcos'altro o può essere che qua sia spawnata la tizia può continuare a essere 5 ma vabbè no proprio 0 allora andiamo da Frank un attimo anche se ci sarebbe da andare andiamo prima da Frank poi andiamo al cimitero anzi da Frank e anche dal tizio nel ripostiglio quasi quasi sto pensando eh quante cose devo fare cioè l'obiettivo 28 giorni 6 ore 42 minuti 12 secondi ci si vede l'insidio l'utilizzo no eh chissà che ci devo fare ecco quando il mondo finirà se lo ripostiglio era qua dietro ma se parlo a proposito ok no scherzavo giustraio se gli parlo cosa mi dice ancora 35 ore finalmente avrò finito con questo sta niente sarebbe il cervello non è che potresti essere eh no infatti ti diverti Tyler non mi voleva fra i piedi e mi ha chiuso qui dovevo pur far qualcosa per tu Tyler mi stavo annoiando e quindi ho pensato che sarebbe stato fossi stato al tuo posto avrei fatto anche di ok niente però non è che magari piccolo ragazzino impertinente ha un grande futuro davanti a sé niente peccato chi non conosce Master Chief e no io non lo conosco lo conosco giusto di no è così macabro e meraviglioso che potrai rimanere a fissarlo per delle ore che dice l'etichetta ABIMO grandi ovviamente ti invito a farlo ho finalmente trovato cosa rega esatto sarebbe forse però attenzione no eh no direi proprio che non posso fare niente ma non è che dall'ubriaco nessuno magari non è che qui ho qualcosa tipo se do a Giuda la Bibbia per dire no è colpa sua se il terzo libro della saga fantasy più venduta di sempre non ha visto la luce però appunto c'è hanno fatto una frase apposta per lui immagino che a che pro per farmela fotografare esatto aspetta non saprei che far strada sbagliata perché bevi tutto questo dormo solo quattordi e gondigli del plank è andato mi parlo del plank sono informazioni dovresti proprio smettere prima che tutta tutta roba già sentita non credo che quei due quando vorrò mandare nello scomp in realtà tu vorresti mandare nello scomp in realtà tu vorresti mandare nello scomp in realtà tu vorresti mandare nello scomp tipo al cimitero mi faccio fotografare non so tipo un fantasma roba del genere gli do loro la foto gli dico ah c'è un fantasma dobbiamo andare ma lei non parla vero immagino ti ricordo che l'unica volta che ha proferito parola ha mandato ancora sicuro di sì c'è qualcosa di mal sì lo so e niente dov'è qua torniamo un attimo al cimitero sì speriamo bene questa immagino che sia ancora fuori portata vero ok gli angeli caduti ma questo deve aver fatto davvero un tonfo notevole faccio volentieri a meno della santità mai avrei immaginato che anche se io ho avuto la fortuna perdere la mandibola eeeh questo canalizzatore che non può fare ah ecco cos'è che dicevo no era per questo che era il problema delle 88 miglia ora quindi non serve ma se non è neppure in grado di cantare i suoi di pe- un po' di pensiero laterale o la roi non funzionerà non capisco dove tu se io usassi uno spillo su di loro tipo per rompergli le palle l'utilizzo del mouse non è l'utilizzo del mouse e perché dovrei eh non si sa mai è un fantasma sai una foto si sa mai c'è una cosa che mi perplima in tutto questo qua non ho ancora fatto mai niente questo probabilmente perché ci sono alcuni insta rag che io non riesco a cogliere tipo sento una strana no eh decisamente infatti c'è qualcosa di malsano non è esattamente malsano è sempre un piacere chiaro ma si do decisamente improbabile così tanti spoiler che non saprei da dove iniziare non so neanche di cosa stai parlando quindi non è aspetta in tutto questo questo qua perché mummia me lo dà anche vabbè è indubbiamente l'anima della festa non essere triste in realtà io capisco perfettamente la tua scelta di vita ma è vero che è fruttariano ah vita ehm sto parlando dove stanno venendo dei rubbi ovvero io ho un caso di plutonio residuo ho uno spindo per dire no a caso potrebbe anche esatto tipo quel pesce salumi andati a male che cedevi fa? niente immagino almeno un'ora volevo andare dall'ubriacone in realtà ma sono andato via prima del previsto se provo a svegliare il tizio con uno spillo non credo lo spillo serve per la bambola voodoo giusto? non saprei come usarlo eh infatti no non gliene frega niente pentacolo non ne so molto di pratiche esotere da quel che so potrebbe essere usato per evocare demoni o persino sì spero di non sbagliarmi sì va bene andiamo in casa se riesco a se riesco a provo a parlare anzi parliamo che col santone l'eremita qua qua non mi sembra cambiato nulla sento una strana energie no infatti ti do la bibbia non funzionerà no aspetta potrebbe anche funzionerà no eh andiamo dell'ubriacone è che non voglio cercare online cosa devo fare 28 giorni 6 ore 42 minuti bla 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 ragazzo alticcio ma che gli è dai non credo proprio che usare tutto con tutto ma piano mio marito potrebbe sentirci oddio c'è il coso qualche rottura scupazzami tutta quel maschio ah potevo guardare cavolo l'ha finita di nuovo cosa meglio non importunare però qui non c'è nulla da fare avrò anche tolto la cravatta dalla maniglia ma il punto della questione non cambia mio marito potrebbe sentirci spupazzami non funzionerà ah però un po' di pensiero laterale cos'è che ha finito il tizio qui c'era la stanza con la pianta carnivora mi ricordo ma io non penso proprio strada sbagliata infatti che bel pa saresti così no l'ho già provato non saprei che funziona è tosto ascolta amico in questo videogioco non dire una parola o ti faccio rimpiando bravo bravo ragazzo esatto sono questi i momenti in cui rimpiango di non avere più una vesci- non ci tengo a farmi macchiare la- fa piano non ha proprio una bella cera preferisco tenerlo nella bottiglia ma infatti si sa mai fallo tu piuttosto scherza spupazzami tutta bel maschione lol per 8 giorni 6 ore 42 minuti 12 què che non so cosa fare con tutta sta roba cioè questo si e va bene ok chiaro però la pinite non serve una mazza il megafono non serve quello serve la pinzola so che in teoria e perché dovrei perché in teoria puoi farci v2 cioè vabbiamo la v2 c'è proprio bene proprio io ho un spruzzacqua per chi cioè appunto non è che io posso andare a provare tutto con tutto sto qua a 3 ore se no ma per dire non dovrei io ho un spruzzacqua Eh ma devo aver saltato qualcosa in realtà Fatemi vedere perché mi dicono la zingara Ma la zingara non c'è Il tonio e la pila ce le ho La pila ce le ho La gru senza successo La mappa della bacheca sulla destra Quindi in realtà avevo la mappa Cioè avevo la mappa perché l'ho presa Non me la ricordavo sta cosa Va bene Chiudate il bidone per raccogliere la terza pila Ok La casetta di legno raccogliete il papillon Il papillon ce l'ho Il custode ho esaurito Il custode chi sarebbe? Frankenstein Le chiavi Ah quello è il custode No ok fatto Cercate di prendere la guzzale Le vie Le vengono Le vengono Vento la sera Ok Nuova location La posta La cassetta Ettera Le get Prendo l'invento Ok l'ho fatto Bicchiere di carta Un gioventro vestito da Falc Entrata nella casa Frigorifero L'assenza Il peperoncino ce li ho Gioco a pezzo Senza successo Stanza a sinistra Per con noi L'uomo nero Alta la bandiera Sullo scaffale La bambola Ok Raccogliate la cravatta E svecciate la serratura A destra Esatto Quello l'ho scoperto Stando adesso Ok Bicchiere di raccolti Barriere di birra Parlate con il coniglio Per sbloccare Frank Location sulla mappa Inventare la bambola Cappelli raccolti Scite dalla casa Entrata nella colla Sull'albero E remite Dialoghi e sposizione Dicchiere la cortesia Di cuciere i capelli Ma davvero Sta cosa Cioè Ok E questa è una cosa Che devo fare Non l'avevo fatto Va bene Ma Drago Ok Ditemi che preferite Il metal Lago La polaroid Ce l'ho Per la calina Per avere il cimitero Ok Ma per casa Cimitero Vedete la vanga Fatto La critta Non diventerà Esatto La mappa Inventario Per andare al mare Ok Fatto Iniziate Esaurite gli argomenti Per una grotta Parate con il diavoletto Perché vedete Il disco Esatto Il disco dalla navicella Fatto Nuovo con il diavoletto Esattiva dal tormento Torna La scarica E' un'altra La birra Fatto Mentre vedete 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 Il lantero Di lui Unito Capoe Per recuperare Le chiavi Ci della stanza Ok Zio Per recuperare Il busto Dal maglio Il filo Il filo Dalla cabina Che non l'avrei Mai fatto Nella vita Perché Di solito Di certe cose Non le fa Filo Disco magnetico Partire Per vincere Sbloccare Le location Chiaro Aprite l'inventario Gero Il capo Di zingari Proseguite A sinistra Quelli Draghi Pagliati Parlate Parlate Con la zingara E dateli Il ticket Datele il ticket Ma non c'è Una zingara Allora Andiamo Intanto Fuori Ok Andiamo Dall'eremita Sta cosa Non è che L'avrei Proprio Pensata Vabbè Dovrei pensare A mille cose E tenerle Tutte Un mille Presenti Vabbè Sveglia Sveglia vecchio Non serve urlare A quel modo Ha ragione Mi perdoni Io ti perdono Senta Non è che potrebbe Cucirmi dei capelli Sulla testa Di questa bambola Richiesta Un po' Insolita Ma non vedo Motivo Per non Assecondarla Porgimela Troppo gentile Adesso funziona Non stavo più Nella pelle Sì Insomma Hai capito Vabbè Sei tu Brook C'è qualcosa Che mi sfugge Non funziona Tuttavia Vabbè Questo nella guida Non era riportato L'ho fatto anticipatamente Teoricamente Dovrebbe esserci La zingara Ma non c'è Cioè Io ho fatto cose Che ancora Nella guida Non avevo letto Eppure qua Una zingara Dovrebbe esserci Ah La bambola voodoo Immagino sia stata Credo È l'unica cosa Che ho fatto Ho vinto Un buono Alla giostra Scegli un premio A piacere Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa Oh mio dio No vabbè Questa cosa Scusate ma Ho paura Di farmi inchiate Un kit Non avevo visto Non avevo visto La morte nera Ma c'era prima Lui non so Chi sia Se è qualcuno Però non avevo visto La morte nera Quanto orbo Sono Millennium Falcon Perché ultimamente Va tantissimo Cioè vedo anche online Sta cosa Dell'ego Millennium Falcon Perché è così Cioè per carità Non dico che non debba piacere Vorrei il set Lego del Millennium Falcon Nella versione Ultimate Collectors Mmm Ho finito L'ultimo disponibile Giusto ieri Però sei fortunato Posso darti questo È una marionetta O un essere umano Non riesco davvero a capire È in effetti Ah Cos'è tutta questa perplessità Non hai mai visto una marionetta Certo ma non una manovratta Da fili invisibili E da un marionettista Senza testa Esatto È in grado di parlare Fra l'altro C'è forse qualche problema Se non sono mossa da fili Beh No Ed è forse illegale Per una marionetta Avere una bella voce Come la mia Non era quello che intendevo Voi donne Siete davvero ingestibili Scusami se insisto Ma non riesco davvero a capire Se sei una marionetta O una persona in carne d'ossa È davvero così rilevante È forse il nostro aspetto A fare di noi ciò che siamo Beh se io sono uno scheletro È proprio perché sono morto Scusami se È forse il nostro Beh se io E lui? Miglior costume dalla Windy sempre È vero? Ammesso che effettivamente sia un tra Sì esatto Beh ma anche il suo comunque Ehi Parla con me Niente eh Quindi ho ottenuto il premio Il regalo Il premio Sì Eh A figlio dai Sto pensando Non è che Non capisco come Eh si sa mai Non saprei Fallo tu Non capisco Non saprei Ma tu lascia fare Non funziona Non ho la forza Non ho la forza Eh Non credo ma Potrebbe anche funzionare Beh non hai detto che sia una stupidaggine Sono accorto di Potrebbe funzionare benissimo in realtà Perché non funziona Oh mi è venuta un'idea Non so se sia intelligente o no Scusate eh Com'è che adesso con lei non posso più parlare Tuttavia Dov'è qua la casa Ho l'impressione che comunque qua sto circondando Al museo O robe varie Potrò andarci Perché comunque parte della mappa Ma tipo Non voglio svegliarmi Si sa mai no Uno spillo Ma ho detto che mi avrebbe dato un coso da metallaro Non saprei come Perché diceva parla con Sarebbe ora che la Devo andare Zai Che preferisci il metal Ok Teoricamente avrebbe dovuto darmi un kit da metallaro Non un premio Si Sta cosa non è Propriamente così ovvia Cioè quante cose a caso io ho provato e non hanno funzionato Questa è molto a caso Ok D'assenso corretto Cioè Vabbè Io non dico niente Sono cose un po' troppo specifiche Cioè Dov'è il cimitero? Alla faccia Vedo che anche crescendo non ha imparato a capire come si incastrino le formine What? Ah È un unico epitaffio su di Farfred Neppure la Io e Ronald adoravamo guardare i loro film in bianco e nero Ah chiaro Sì ma quanto specifica anche sta cosa Cioè devi proprio osservare la tomba Vedere che c'erano Non incisioni ma comunque Disegnate le forme della cravatta eccetera E dire Ah Ci devo mettere lì la cravatta e il papillon Madonna mia quanto Fiaccola Prima Andre piace E poi raccogli Sì Io non credo che questa cosa Strada sbagliata Non saprei come Eh ma non si sa mai È troppo buio Un attimo eh Che c'hai mica da c'è Oggetto imprescindibile in ogni kit delle Sì Do you speak Perché Sì Sì Ora Io lo so che non dovrei far A proposito La prossima potrebbe essere una bolletta Io lo so che queste cose non andrebbero fatte Perché Teoricamente dovrei viverlo per quello che è Teoricamente Però adesso mi venite a dire Che senso ha questo Cioè Per nessun motivo Torna in cucina Stai attento che c'è una mattonella Che puoi spostare Sotto ci sono dei fiammife A caso Cioè Parliamo Poi mi vengo a dire Eh ma sei di un'intuitività che fa schifo Madonna Questo non è intuitivo Questo è tutto il contrario Questo è intuitivo Ho il plutonio per la macchina del tempo È intuitivo Sistema di accensione automatico Attivato Ero uno dei giganti di Shingeki Ero uno dei giganti di Shingeki Le test in sala moia So benissimo da dove sono Vengono fuori ma loro quattro Che brutti ceffi Parla per te Me lo sono solo immaginato O quella testa ha detto qualcosa Niente affatto Meno male Per un attimo credevo di essere impazzito Come pretendi che possa parlare a delle teste Devono aver pronunciato le loro ultime parole Parecchio tempo fa Peccato non valga lo stesso per te Tutto questo puntare e cliccare mi stressa Devo assolutamente prendermi una vacanza Vabbè Non sapevo come Come non sapevo come chiamarlo Ho la vaga impressione Che qualcuno qui Avesse perso l'ispirazione C'è il libro Esoterico Chiamiamolo esoterico Con scritto 1861 È un indizio per la macchina Queste sono cose intuitive Non vai lì per nessun motivo C'è una mattonella che adesso puoi alzare E tirar fuori i fiammiferi Quello non vuol dire una mazza Tuttavia Facciamo così A uscire dal tuo loculo Ma mi sono appena messo a dieta Non tocco una pizza da settimane Solo perché l'ultima volta ha divorato anche il fattorino Eh Vabbè Che ti è successo al braccio? Avevo troppa fame Mi ha dato un mozzo Ah pensavo c'è il cassita sul massimo gigante Deve aver fatto un male cane Però era buono Ma come? Mi pare di capire che sei un cannibale Non faccio molta differenza quando c'è di mezzo il cibo Non intendi mica provare a mangiare anche me, vero? Se fossero tutti come te a quest'ora Saremmo anche di spaventare Esatto Cioè provo a dirlo io Mangiare cosa? Le ossa? In effetti hai ragione Eh Vado a fare quattro passi in giro Magari raggiungemi più tardi, ok? No, sto avendo un'idea Buongiorno a chi sei collegato Ma questa cosa non funziona Non ti seguo No, figurati Ho del cibo e c'è uno che ha fame Figurati se funziona, ovviamente Il problema è genera Prendilo, ti prego Non lo prenderà Ci sarà un motivo se hai rimasto lì per così tanti anni Però Ah E se la usassi con la macchina del tempo? Vedremo, vedremo Però Ah Figo Capitolo 1 Sortilegi Come maledire vostra suocera e vivere felici Catturate un animale selvatico a cui associare la vittima L'80% dei lettori sceglie un rospo o una serpe Aspettate la mezzanotte e il chiaro di luna Per battezzare l'animale col suo nome Liberate vostra suocera Cioè l'animale in aperta campagna La vostra amata mammina acquisita avrà così perso l'uso della parola Rimuovete i tappi dalle orecchie e gustatevi il rinnovato silenzio Actung Purtroppo il suddetto sortileggio non è efficace anche su moglie e mariti Capitolo 2 Sedute spiritiche Come soddisfare il vostro complesso di edipo anche se vostra madre vi ha lasciato? Sedete attorno a un tavolino con altre persone che intendono comunicare con la vostra defunta madre Evitate quindi vostra moglie Accendete una candela di cera al centro del tavolo Create un cerchio tenendovi per mano o toccandovi con i mignoli A questo punto chiudete gli occhi e invitate a voi il defunto Alcuni defunti non amano comunicare verbalmente Preparate quindi un mezzo alternativo come penne o macchine da scrivere Actung Ricordate sempre di non inimicarvi il defunto se intendete comunicare nuovamente con lui Ma soprattutto di non inimicarvi vostra moglie Capitolo 3 Pratiche voodoo Come vendicarsi dei bulli della scuola restando a distanza di sicurezza Recuperate dei campioni di capelli o unghie del bullo in questione e fissateli a un omino di pezza Posizionate quindi la bambola voodoo al centro di un pentacolo Chiudete gli occhi e incanalate il vostro odio sul bullo Immaginarlo con la testa immersa nella tazza aumenta le probabilità di riuscita Se il rituale avrà successo la bambola assumerà i connotati della vittima designata Procuratevi dunque un altro degli spelli per colpire la bambola voodoo Godetevi la vostra vendetta Actung Non danneggiate la bambola rimuovendo arti o testa Tenere fuori dalla portata dei bambini Ma come tenere fuori dalla portata dei bambini? Capitolo 4 Filtri d'amore Come uscire dalla friendzone e ovviare alle ordinanze restrittive Procuratevi una fotografia della vostra futura metà Non dovreste avere problemi dopo tanti anni di stalking Immergete dei fiori di rosa e chiodi di garofano in una soluzione di acqua piovana e vino rosso Mettete quindi il composto sul fuoco fino a portarlo a ebollizione Una volta raffreddato bevete il filtro d'amore così ultimato Attendete comodamente a casa il suo arrivo Actung Ricordatevi di adottare sempre le dovute precauzioni Dovute precauzioni vabbè Termina lettura Mostro marino? Non credo di poterci parlare Non si può certo dire che si vivessero tempi tranquilli nell'oceano profondo No eh Posso suggerire un bravo? Sì no infatti Ok posso parlare con lui però Oddio ma cos'è questa puzza? Di pesce? Devi assolutamente fare un bel bagno Prendi Questo è per il tizio Grande Ossicino Ascolta Potremmo parlare Vabbè 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 Con calma Con calma Ho il viaggio nel tempo Il bagno schiuma E la bambola voodoo Magari Quindi Bagno schiuma Bambola voodoo Viaggio nel tempo Proviamo la bambola voodoo Giusto per Tipo Funziona adesso Ok Ora funziona Ora funziona Negativi Magari dovevo leggere in realtà Il Il libro Ma come Niente di più semplice Tutto merito della facilità Con cui riverso il mio odio gratuito Sulle persone Speriamo solo che questa sia la volta buona Credo di sì Era davvero johnny bravo Dicevo no non può essere johnny bravo Invece sì Era davvero lui Va bene Alla spiaggia Vediamo se davvero andare nel 1861 Forse serve soltanto per avertela sempre con te Non ho motivo per vi Sei consapevole Sei consapevole Niente Non serve Andiamo in casa allora Però tipo Il laghetto dove ci sono i mostriciattoli A cosa serve esattamente Perché forse ci ho trovato qualcosina Sì ma potevano mettere gli oggetti Anche da tutt'altra parte Devo andare al piano di sopra ora Tipo È un po' troppo grande Per farlo passare Mio marito potrebbe sentirci Meglio non importa No eh Se vado qui Attenzione però Vabbè ciao A grandezza naturale Fa persino più paura Vi do cuorgo Vabbè Mi piace Essere abbracciato Mi spiace Charles Ma non potrai aggiungermi Alla tua collezione I vantaggi dell'essere già morti Eh già Quanta roba La parrucca la posso prendere? Sarebbe anche in tinta Con il colore della felpa Ovviamente sto scherzando Peccato Sono disposto ad indossare giusto le orecchie di Topolino Come da obblighi contrattuali Dico bene sviluppatori Ma che serio Ti prego davvero lo devo prendere Come indossa Ma che schifo Ho visto che c'è sotto il letto Nascosto Esiste ancora qualcuno che si ostina a giocare a nascondino Certa gente non vuol proprio crescere Che ci fai nascosto lì sotto? Come dire Potrei essermi cacciato in guai seri E di preciso chi ti starebbe cercando? Questa stanza è un continuo via vai di coppiette A direi il vero Un po' tutti Ma Diciamo che negli ultimi tempi Ho combinato qualche casino di troppo Hai tutta la mia stima Che ci fai nascosto? Come? E di preciso questa stanza è un A dire Niente sì 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 Bicciamo Hai tutto Lenzuolo rosso non Ah l'ha preso Ma serio L'ha preso così a caso Anelli Viene Chissà quante cose ci posso fare Questo lo prende Tieni a freno i bollori No eh Ma come Ma perché L'ennesima dimostrazione del grande ascendente dei coniglietti Nei confronti del gentil sesso Non oso immaginare cosa racconterebbe se solo avesse il dono della parola Ma come Posso Sè Detto questo Ho gli anelli Che ci faccio con gli anelli E questo sarebbe No ovviamente no Il lenzuolo rosso Eeeh E se facessi una cosa di questo tipo? Usare tutto con tutto Eh ma non si sa mai La pianta non mi vede più E io posso esaminare Aspettate però Tu credi viaggi nel tempo? 8 giorni 6 ore 42 minuti Non saprei come usarlo Ovviamente non sapresti come usarlo Figurati Quando mai le cose logiche possono funzionare Ognuno di noi Eh Strada sbagliata Strada sbagliata Perché ti puoi il regalo? A chi potrei darlo? Il premio Scusate Andiamo a parlare con Coso Un tizio fuori dalla porta Magari Cosa vuoi? La camera da letto al piano di sopra è libera Come promesso Davvero? Chiamo subito la banda Stati fermo immobile Prendi con i ragazzi E andate alla discarica Non interessami di cosa che facete Non mi farmi perdere tempo Tutto risolvuto Ora vai Stanza zompa zompa pronta Wow Non riuscivano più a trattenersi Chiamali scemi Quindi Eh infatti Proviamo È tutto pronto Possiamo procedere Dove vuoi che lo portiamo Via venerdì numero 13 Veramente Hai idea di quanto sia lontano da qui Noi siamo diretti alla festa Il massimo che possiamo fare è portartelo lì Vedrò di accontentarmi Sentito Muoviamoci Ah così Ok Non dice niente No Non dice niente Però Allora Bambola voodoo Non mi ricordo neanche Che questa bambola voodoo Abbia fatto qualcosa Ci sarebbe un po' di roba Ci sarebbe un po' di roba Solo che io Andiamo qua Gli anelli Gli anelli Gli anelli Gli anelli che minchia Perché ho roba Però Sto pensando Do Con tutta sta roba Che ci faccio Sto pensando Perché non mi viene in mente Niente di particolare Che posti ci sono? Dicevamo Ah Non è che per caso Andiamo alla discarica Non alla discarica Come si chiama Questo posto qui Che non mi ricordo Come si chiama L'accampamento Chiamiamolo così Non è che per caso Un po' di pensiero laterale Adesso le posso parlare Non capisco come Se do gli anelli E questo sarebbe il massimo Ah attenzione Non ho più la bambola Giusto Ok ora mi ricordo La bambola V2 Ha fatto scappare Johnny Bravo Però appunto Johnny Bravo È scappato Johnny Bravo È scappato Come anche quello Che faceva Le pitture Nella caverna Però credo Quelli siano proprio Andati via E basta Andiamo alla casa Allora Allora sei proprio duro Non prima di aver trovato Il modo di portarlo Alla nuova casa Volevo dire Magari le persone Si sono spostate C'è qualcos'altro Da poter fare Forse 28 giorni 6 ore 32 minuti 12 secondi Ecco Quando il mondo Finirà Io non credo che questa cosa funzioni Non capisco come Idem questo C'è qualcosa Non saprei come Non credo che Ognuno di no Sono accorto Eh ma tu Lascia fare Sono tutte cose sensate Da provare a fare Non si sa mai Proviamo ad andare in cucina Vediamo se c'è qualcosa Ah e dov'è la moglie Di Ognuno di noi ha un po' Non volevo darlo a Giuda Ma ok Se vado qui Ha cambiato qualcosa Non mi pare Non ho la forza di contro No Ognuno di noi Ehm Volevo andare su C'è qualcosa di mal Fabiano Mio marito potrebbe sentire Meglio non importunarlo Però il bagno schiuma Magari mi servirà Più avanti Di sicuro È la camera più ambita Della festa Spupazzami tutta Bel maschione Non capisco dove tu voglia Andare a parare Direi che può fare a meno Usare tutto Con 5 minuti Magari sta chiamando Però Raccogliete la targa Con la data Ok Bagno schiuma La cassetta La gru per inserire la cassetta Che avete nell'inventario Io non ho una cassetta Nell'inventario Diciamo Allora Diciamo che questa cosa L'ho già fatta Ma vabbè Non capisco perché Devo farlo dentro la gru Ma vabbè Andate la cassetta Sull'alba Prada del drago Look metal Eh ma no Teoricamente Teoricamente Io dovrei avere Io teoricamente Dovrei avere Una L'audio cassetta Con il registratore Ma non ce l'ho Non so perché Mi dica di venire qui A farlo Non so perché Infatti non ho un'audio cassetta Non è che magari Se vado fuori Fammi andare un attimo qui Si sa mai che magari ci sia qualcosa No No Non saprei come No eh Se do questo al mandrago Assoluto No niente Quindi Quella domanda No Quello che dicevo io Non è che magari Essendo che qua c'era il mio armadio Magari sia caduta fuori L'audio cassetta Qualcosa Non lo so Mi stavo chiedendo in realtà Non è possibile Viaggiare con la mappa In altri luoghi Tipo tornare a casa Non credo Però Non prima di aver Si sta rivelando molto più arduo di quanto Credo che inizierò No niente Lo scherzavo Shenron ris Sarebbe ora Potresti cantarmi Conosco un pezzo Non metto in dubbio le tue doti Deathmatch Con questo abbigliamento ti sembro forse Devo andare Zai Eh sì Facciamo una cosa Mi fermo qua Salva In realtà Sono parecchio Parecchio perplesso Da sta cosa Ovvero Dov'è qui? Eh io non vorrei Che più che altro Fossi bloccato Almeno Dalla guida Dice che dovrei usare La Audiocassetta Con il registratore Per sentire la canzone Metal Dirla Dirlo al drago Tra l'altro mi dice Che la zingara Avrebbe voluto darmi Un kit da rocchettare Può essere una roba del genere E non mi ha dato quello Mi ha dato un premio Bisogna vedere Cioè Devo proprio Andare a cercare Si può rimanere bloccati In The Wardrobe Perché non hai cose Che dovresti avere Vediamo Detto questo In realtà Posso pure chiudere Qui Ok Questa live è stata un po' così A parte è stata fuori orario Non ho avuto esattamente un programma Facciamo una live su The Wardrobe Andiamo avanti stamattina A parte quello Mi fa piacere per chi è venuto a vederla Per chi la vedrà in seguito In ogni caso A dimostrazione del fatto Che comunque Non è facilissimo Certe cose sono proprio specifiche Te le devi andare a cercare Ma Sono Molto pignole E puntigliose a volte Vedremo comunque Come andrà avanti Tanto faccio ricerche Giusto per capire Se posso andare ancora avanti O se proprio devo ricominciare da capo Perché non ho Quello che serve Vediamo Detto questo Buona giornata Oggi pomeriggio Forse farò una live Ma vediamo Sto lavorando una cosetta Che vediamo cosa ne viene fuori Non so se farò la live Poi da oggi pomeriggio tardo A sera eccetera Non so quanto ci sarò Quindi vedremo Domani i soliti appuntamenti Va bene Li ho già detti anche ieri Nia Red Dark Souls Sicuri Oggi si vedrà Quindi In ogni caso Buona giornata Buon pomeriggio E Alla prossima Ciao a tutti